Sì, qualcosa del genere. Ehi, chi ha Red? Wow, per un pelo. Sì, fai così. Sì, fai così. No. Gnorco ignorante, ma non l'avevo annientato anni fa. Oh, cosa sono le gemme nere? Un milione di cellule cerebrali. Sembra un po' troppo devastante. Non è molto rassicurante. Ok, ok, va bene. Stelle di energia. Mai sentite. Ehm, non lo so. Gemme di luce. Ehi, che cosa succede? Uova di drago. Oh sì, ne ho trovato uno. Forse riesco a trovartele tutte. Tra poco andrò comunque a salvare il mondo. Ah, un teletrasporto. Penso che Riccone ne abbia già uno. Il teletrasporto di Riccone è più piccolo. Sai, mi piacerebbe darti una mano, ma... Non so niente di Red. Il professore ha detto che veniva dal passato. Chi è? Che cosa ha fatto? Una talpa, eh? Conosci il professore? Ehm... Allergia all'aria pura. Ciao, Hunter! Hai finito di esplorare la grotta? E allora, Hunter, hai già finito di fare l'eroe? Eh? A dire il vero, io ti ho battuto. Allora, lo facciamo o no? Beh, in realtà sono alla ricerca di... Wow! Questo soffio è ancora più potente del mio alito infuocato. Proprio così! È come essere risucchiati in un tombino gigante. Beh, perché mi fissi così? Sono fico, eh? Ok. E vuoi che io la riempia, no? Didi no? Grazie, ehm... Amico. Non sono un pesce, sono un drago. Mi chiamo Spyro. Ehm, grazie. Ma, di nuovo, non sono un pesce, sono un drago. Ah, pollastrelle. Sì, ma tutti sembrano evitare il discorso. Puoi dirmi qualcosa in più su di lui? Eh? Di solito i miei nemici dicono che sono più piccolo di quanto si aspettassero. Cercano di affondare il mio ego. Ok, dai, ora ti stai scaldando troppo. Grande! Un altro tipo di soffio. A cosa serve questo? Ok, ok, andiamo al sodo. Cosa devo fare? Vai dal sergente Bird per avere uno zainetto razzo. O forse anche Riccone ne ha uno. Ah, difficile. Ho sconfitto nemici più grandi di te. Devo solo correrti intorno un paio di volte per capire le tue debolezze. Poi ti colpisco tre volte e... Oh, Hunter, che bello vederti. Pensi di potermi tirare giù? Ah, molto divertente. Oh, grazie, Hunter. E ora troviamo Red. No, no, no. Proseguirò da qui. Ciao, Hunter. Hai finito l'esplorazione. Allora, Hunter, pronto a partire? Ho incontrato gli altri draghi anziani e... Beh, ci sono. Vuoi dire che la supercarica è carica? Dovrei avere paura di te. Ho parlato con gli anziani e a quanto ho capito sei solo un bigliacco traditore. Spero solo di combattere meglio di te quando avrò la tua età. A quanto pare la tua potenza non era poi così infinita. Perché stai ridendo? Forse è perché sei già... Sottoterra. Ah, figo! Allora, cos'è questa cosa? Professore, finalmente! Che cosa pensavi di fare inseguendo Red? Ehi, niente paura. Ti farò uscire di qui appena... Ah, non sei poi questa grande sfida. Sono sicuro di poterci riuscire di nuovo. Si è già fatto sotto. Allora, adesso hai paura di me?